Il normale compito nostro in questo parco è il taglio dell'erba quando è necessario e il controllo di un'associazione. L'associazione è Radici di Pietra, Presidente Michele Bilancia, architetto nonché studioso ma anche inutili perché erano talmente rovinate e poi sono state fatte alcune opere e allora diventa Chiesa Torre addosso alle mura etnistiche. Quella che oggi noi vediamo si presenta grossolanamente come un'impronta susitonica.